Geremias chiede scusa a Daniele Bossari per averlo chiamato bastardo Dopo le accusi di Geremias Rodriguez, arrivano prontamente le scuse. Il fratello di Belen aveva chiamato bastardo Daniele Bossari mentre parlava con altri concorrenti e coinquilini della casa La cosa non è passata inosservata fuori, al punto che Filippa Lagerbac, compagna di Bossari, si è vista costretta ad allertare la produzione. Le scuse di Geremias Nel video, vediamo Geremias avvicinarsi a Daniele mentre questi è intento a pettinarsi. Quando Geremias gli parla, Daniele sembra sorpreso, quasi come se non avesse capito nulla di quello che è stato detto alle sue spalle. Come si diceva? Come si diceva? Al momento delle nomination, Daniele ha fatto il nome di Moser solo perché gli ha rivelato di avere un diario in cui mette i voti delle donne con cui è stato a letto. Geremias si è mostrato solidale con lui. Filippa Lagerbac è intervenuta su Twitter avvisando, quando è stata contattata da alcuni spettatori, di aver prontamente allertato la produzione sulla vicenda. Ciao!